Quando parliamo dell'amore, non si tratta della cosa emozionale che chiamiamo amore. Dovrebbero veramente esserci più parole per indicarlo, perché ci sono vari tipi di amore. C'è l'intenso attaccamento mentale, o mentale emotivo, o l'infatuazione per un'altra persona. Si presenta quando ti innamori di qualcuno. È quasi una dipendenza dall'altra persona e ha una durata limitata. E si chiama innamoramento. E a volte le persone si sposano mentre si trovano in questa fase relativamente breve della dipendenza. La dipendenza di essere innamorato invece che di amare. Innamorarsi o essere innamorati? Non è... Non è sostenibile a lungo, specialmente quando si va a convivere con un'altra persona. E ricorda che stiamo parlando del fenomeno divertente che è conosciuto come innamorarsi o essere innamorati, che è un'intensa attrazione sessuale, emozionale, mentale, in cui spesso si ha un'immagine idealizzata dell'altra persona. E ci sono un'infinità di emozioni al riguardo, come il bisogno e l'attaccamento. E' un po' come se l'altra persona diventasse una droga per te. Ma di solito non viene chiamata così. Sai che è come una droga perché se l'altra persona si allontanasse mentre fossi in quello stato, potresti sperimentare sintomi d'astinenza molto dolorosi. Da un dolore emotivo così intenso, da arrivare quasi a considerare il suicidio, a una rabbia folle ed estrema, persino fino a giungere alla violenza fisica, se le persone sono molto inconsapevoli. Questo accade quando la droga, ossia l'altra persona, viene rimossa. L'altra persona si allontana mentre sei in quel periodo in cui sei innamorato. E poi ovviamente nel momento in cui l'oggetto dell'attaccamento viene meno sperimenti l'opposto dell'essere innamorato. In molti casi si trasforma in odio intenso. Quindi se quello era amore lo scambiano per amore. Chi non sa cosa sta succedendo e la cultura popolare che lo tratta come se fosse vero amore. Ma se lo fosse, nel giro di un minuto, se quella persona dice ti lascio, ho trovato un altro, oppure era solo questo cosiddetto amore, diventa un intenso odio. Il suo contrario si manifesta immediatamente. quindi se hai supponiamo che tu voglia tanto avere un partner e magari venendo a contatto con la cultura popolare magari certe canzoni pop o certi film o romanzi romantici o quello che è, potresti avere certe aspettative di come essere in una relazione. Oppure potresti aver sperimentato l'innamoramento una volta e poi è finito e adesso non vedi l'ora di sperimentarlo di nuovo con qualcuno. Se fai pratica con le affermazioni o con le tecniche di manifestazione, ad esempio formulando certe frasi, supponiamo che ci sia qualcuno nella tua vita che potresti voler includere certe qualità o certe cose che vorresti da quella persona. Alcune persone vogliono ad alcune persone piace andare molto nel dettaglio quando fanno il loro ordine nell'universo, quando chiedono ciò che vogliono. ma potresti avere delle aspettative irrealistiche rispetto a fino a che punto un altro essere umano possa essere la fonte di un appagamento duraturo nella tua vita. E anche se manifesti in maniera impeccabile affermando ciò che senti e fai sempre pratica dicendo c'è questa persona nella mia vita che è amorevole e gentile se è ciò che vuoi. Oppure potresti dire c'è questa persona nella mia vita che è attraente ed emozionante e se hai aspettative irrealistiche potresti riuscire a manifestare quella persona ma poi sperimentichi ciò che stavi cercando hai creato un'altra specie di illusione nella tua vita l'illusione è tornata. Quindi prima di far pratica con delle affermazioni che riguardano il trovare un partner o l'essere in una relazione amorevole pensa a cosa è successo nelle tue relazioni passate e chiediti c'è uno schema? Hai avuto diverse relazioni nel passato che sono finite male per qualche motivo? C'è uno schema? Hai sempre scelto persone che sono finite per essere abbastanza inconsapevolmente infami? Perché tutti gli uomini perché tutti gli uomini con cui esco finiscono per essere degli infami? Forse tutti gli uomini sono degli infami perché scelgo sempre questo? Perché scelgo sempre questo tipo di donna? Quindi ci potrebbero essere degli schemi ora semplicemente creando un certo tipo di affermazione o utilizzando certe tecniche di manifestazione non hai risolto determinati schemi inconsci che potrebbero essere presenti in te e che potrebbero essere attivati appena entri in una relazione ci possono essere anche certi schemi che ti fanno addirittura a scegliere un certo tipo di persona un certo tipo di persona che magari non fa assolutamente al caso tuo ma c'è uno schema che te lo fa scegliere quindi prima di utilizzare qualsiasi tipo di tecnica di manifestazione pensa presta attenzione e pensa alle tue relazioni passate se ce ne sono cerca di capire se c'è qualche schema e poi e questo vale per tutti come ho già detto non puoi avere una bella relazione duratura e veramente amorevole senza che la dimensione spirituale che è la dimensione trascendente sia presente nella relazione